In provincia di Salerno il bilancio delle vittime provocate dal covid si fa di giorno in giorno più tragico. Nelle ultime 24 ore, altre 10 persone hanno perso la vita. A Nocera Superiore sono deceduti due 78 anni, a Buonabitacolo un 83enne. A Scepiange la scomparsa di una donna di 75 anni, a Castel San Lorenzo. La vittima è un'anziana 84enne, a Sarno. In un giorno sono scomparsi due uomini di 85 e 53 anni e una 63enne a Ponte Cagnano, invece. A perdere la vita è stato un imprenditore agricolo di 55 anni. Tutto il quartiere di Picciola e l'intera città di Ponte Cagnano-Faiano lo ricorda con affetto, con grande dolore. E io voglio esprimere alla sua famiglia, ai suoi amici, davvero le condoglianze, il cordoglio da parte dell'intera comunità di Ponte Cagnano-Faiano. Una persona che conoscevo personalmente e che era sempre impegnata per questa città. Un bilancio reso ancora più preoccupante dalla conta dei positivi che continua a crescere. Ieri la provincia di Salerno ha fatto registrare altri 560 nuovi casi, con i picchi che riguardano il capoluogo e l'agronocerino sarnese. Ancora positivo. Il presidente della provincia di Salerno, Michele Estrianese. Molto meglio rispetto ai primi giorni, ma purtroppo ancora positivo al tampone. Ci sarà da attendere ancora qualche giorno, fare altri controlli e verifiche per poi poter magari riprendere la vita di ogni giorno. Si allunga anche l'elenco dei comuni nei quali slitta la riapertura delle scuole a San Valentino Torio, didattica a distanza fino al 3 dicembre, mentre Pagani ha posticipato tutto al nuovo anno. Grazie. Grazie.